Gesù cammina davanti ai discepoli, a tutto il popolo di Dio e ai nuovi cardinali e ci chiede di seguirlo decisamente sulla sua via. Vi chiama e ci chiama a guardare la realtà che guida i suoi passi verso Gerusalemme e la realtà è la croce, è il peccato del mondo che lui è venuto a prendere su di sé e a sradicare dalla terra. L'ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia del Concistoro Ordinario Pubblico che ha presieduto nella Basilica di San Pietro, il quarto del suo pontificato per la creazione di cinque nuovi cardinali. La realtà sono gli innocenti che soffrono e muoiono per le guerre e il terrorismo. Sono le schiavitù che non cessano di negare la dignità anche nell'epoca dei diritti umani. La realtà è quella di campi profughi che avvolgono a volte assomigliano più a un inferno che a un purgatorio. La realtà è lo scarto sistematico di tutto ciò che non serve più, compresse le persone. Ai neoporporati, infine, il pontefice ha ricordato che Gesù non vi ha chiamati a diventare principi nella Chiesa, ma a servire come lui e con lui, il padre e i fratelli. Vi chiama ad affrontare col suo stesso atteggiamento il peccato del mondo e le sue conseguenze nell'umanità di oggi. Quindi Papa Francesco ha creato Cardinale Jean Zerbo, arcivescovo di Bammaco in Mali, Juan José Omella, arcivescovo di Barcellona in Spagna, Anders Arborelius, vescovo di Stoccolma in Svezia, Luis Marie Ling, Mangkanekun, vicario apostolico di Paxé in Laos, Gregorio Rosa Chavez, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di San Salvador in El Salvador. Con loro, al termine del rito in Basilica, Francesco è salito al monastero Mater Ecclesi e per l'abbraccio nella fede al Papa Emerito Benedetto XVI. I cinque nuovi porporati hanno poi raggiunto l'Aula Paolo VI per ricevere la visita di cortesia detta di calore di fedeli con fratelli vescovi e sacerdoti, amici e parenti.